ciao ragazze oggi un nuovo video ma prima di iniziare come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e trovare la campanella nella giugno info box come sempre trovate tutte le informazioni sedemi social che per quanto riguarda questo video ordine avon campagna 1 io direi di iniziare subito a spacchettare fortunatamente questa volta è arrivato integro nello scatolo vi faccio vedere i miei clienti cosa mi hanno ordinato allora iniziamo subito allora questo è tutto l'ordine delle mie clienti allora allora per prima cosa troviamo uno shampoo secco un shampoo a secco questo qui della linea advance technique di amon appunto poi abbiamo poi abbiamo di questa linea un detergente per mani questo è praticamente water fruit e mask scent poi abbiamo due deodoranti per uomo a roll on e abbiamo nella profumazione active e fresh poi abbiamo un correttore della linea power stay nella colorazione golden golden medium che già mi fu ordinato nella campagna di natale praticamente la cliente l'ha ripreso e questo è appunto il power stay 18 ore e la colorazione è questa qui non so se si riesce a vedere ma spero di sì poi abbiamo un rossetto un rossetto della linea matt colorazione movie matters ultramatte questa è la colorazione che non abbiamo proprio perché comunque sono tutti prodotti di clienti non c'è nulla di mio poi abbiamo un profumo un far away questo è il far away splendoria da 50 ml bellissimo poi abbiamo uno smalto avon ultra color nella colorazione light tanning red così vediamo se il colore è questo bellissimo rosso poi abbiamo abbiamo un prodotto questo caccia brown scalping nella colorazione light brown e vediamo se riesco vi faccio vedere anche quel colore senza aprire la finita insomma eccola qui questo è il colore un bel marrone caldo e poi ci sono dei campioncini che ora vi faccio vedere che mi hanno inserito sono dei campioncini della linea a nev ed è una crema hydra plant concentra concentrate più acido e alluronico e me ne hanno messi un po' queste qui poi per quanto riguarda i cataloghi invece ci sono due della campagna attuale che è la campagna 1 eccoli qua e poi ci sono quelli della campagna 2 che inizierà a febbraio che non vedo l'ora di andare a sbirciare un po' anch'io e ne ho presi qualcuno come sempre poi c'è l'avon per te con una bellissima novità questo è un nuovo far away un profumo nuovo che sicuramente non mi farò sfuggire bellissimo anche il pack di questo profumo devo dire e non vedo l'ora di prenderlo in anteprima ci sono veramente tante tante cose c'è anche il set molto molto interessante insomma e poi infine abbiamo come sempre la on outlet che c'è fino allo sconto fino al 45% di sconto sempre per quanto riguarda la campagna 2 quindi ragazze questo è stato tutto l'ordine delle clienti questo è stato l'ordine delle clienti come sempre se siete interessate a entrare anche voi in avon trovate come sempre tutte le info per quanto riguarda appunto avon e trovate come sempre tutte le info per quanto riguarda i miei social io come sempre vi ringrazio per avermi fatto un po' di compagnia fatemi sapere se voi avete provato qualcosa di questi prodotti che mi hanno ordinato fatemi sapere inoltre se vogliamo sbirciare insieme il nuovo catalogo di febbraio che vedo che ci sono anche delle belle cose delle belle novità anche per San Valentino sicuramente ci saranno delle belle offerte anche per fare dei pensierini per San Valentino e quindi se vi va fatemi sapere con un commentino così lo sfoglieremo insieme che a me fa molto piacere detto ciò io vi do l'appuntamento al prossimo video vi mando un grande bacio se volete ci vediamo al prossimo ciao ragazze ciao ciao ciao